Ciao ragazzi e bentornati con questo nuovissimo video Oggi siamo qui tornati su FIFA 22 Perché oggi andremo a predictare in realtà la prossima stagione della Roma La stagione inizierà ad agosto Quindi non manca in realtà molto Manca più o meno un mesetto Anche un po' meno se non sbaglio E la Roma si sta rinforzando sempre di più con degli acquisti veramente forti Oggi siamo qui su FIFA 22 Perché andremo a vedere come si classificherà la Roma nel prossimo campionato 2022-2023 Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Di lasciare un bel mi piace Di commentare, di condividere il video con tutti i vostri amici E fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste altre squadre E se sì, quali Nel predictare appunto la prossima stagione Magari tipo uno vuole, non lo so Il Napoli, il Barcellona, l'Inter, quella che volete Metto tutti gli acquisti nuovi E simuliamo tutta la stagione Allora siamo qui con la Roma Perché con la Roma? Perché intanto è una squadra che Io l'anno scorso nella mia prediction del campionato Ho messo quarta Al quarto posto Quest'anno rifarò la prediction E la rimetterò quarta Probabilmente, non lo so Raga, io sto registrando il video dopo che è stato ufficializzato Paolo Di Bala alla Magica Roma Paolo Di Bala è ufficialmente un giocatore della Roma Perché all'inizio Quando la Juve non ha rinnovato più Di Bala Di Bala aveva tre scelte Di Bala praticamente lo voleva solamente L'Inter Al tempo All'inizio, tipo verso i primi di giugno Comunque per tutto giugno Poi l'Inter Furba che è proprio l'Inter Raga, veramente l'Inter non lo so Cioè, ci farò un altro video Facciamo anche il video con l'Inter probabilmente Comunque L'Inter non l'ha preso Ha preso Lukaku Si è ripreso Lukaku E ha detto Così, siamo a posto così in attacco Si sono fatti scappare Di Bala Le uniche squadre che potevano permettersi O comunque volevano prendere Di Bala Erano il Napoli e la Roma Il Monza pure aveva un po' detto Se non trovava nessuno Poteva appunto andare al Monza Raga alla fine è andato alla Roma Il Napoli pure È proprio una roba che Cioè, si è fatto scappare Di Bala sotto il naso Veramente Non lo so Oggi andremo a comunque costruire tutta la Roma Dell'anno prossimo Allora Sto un attimo sistemando la squadra E credo di giocare con Questo modo Cioè, di giocare Di far giocare la squadra con questo modulo Con gli esterni così Con la difesa 3 Con Zalewski Qui Zalewski Che è veramente fortissimo Raga Ha solo 19 anni Veramente forte Comunque mi sono dimenticato di togliere i miei italiani Perché lui è andato all'Inter Lo togliamo Ci sono anche nuovi acquisti Come Matice e Selic Matice va subito titolare al posto di Veritù Abbiamo Selic che farà il panchinario Abbiamo però anche Spinazzola che è tornato dall'infortunio Quindi Spinazzola ovviamente va subito fatto giocare Abbiamo molti giocatori La Roma ha veramente una squadra molto molto forte Secondo me potrebbe riqualificarsi Sì, dopo un po' di anni In Champions League Che acquisto, raga Che è stato un po' lo di bala Secondo me è un acquisto veramente, veramente top Ora, io simolo fino a Il 23 maggio Magari avremo anche la finale di conference Come è successo nella vita reale Non lo so Ci becchiamo Tra Pochi secondi Bella Siamo arrivati al 23 maggio Abbiamo perso la Coppa Non so Credo che sia la Coppa Italia Quella col Milan 2-0 In campionato io ho visto un po' di vittorie Qua c'è una striscia di sconfitte Abbiamo vinto con la Juve 2-1 Poi Venezia perso Inter perso Sconfitte col Torino Con l'Atalanta In Europa League C'è in Europa League In Conference League Siamo usciti agli ottavi Sono quelli Sì, agli ottavi Io ai quarti Non lo so Ma Mamma mia, raga Come predictato da me Siamo arrivati i quarti Ok La classifica Potrebbe Effettivamente essere questa Io vi giuro Io ora Magari non mi crederete Però Allora Non è tutta come Me la penso io Però Io me lo immagino così Un campionato Il prossimo campionato Con il Milan La Juve L'Inter Sicuramente in Champions Che lotterranno tutte e tre Per il titolo Qua Il Milan è arrivato primo La Juve L'Inter Ha pari punti La Juve però Seconda L'Inter terza Secondo me Più o meno Sarà così Secondo me Il campionato Lo vincerà O il Milan O la Juve O l'Inter Però Saranno tutte vicende Di punti Il quarto posto Secondo me Sarà della Roma Il quinto posto Secondo me Se fai gli acquisti giusti Potrebbe essere la Lazio Sesto posto per il Napoli E settimo posto per l'Atalanta Secondo me Però Questo ne parleremo un po' Questa volta Qui I primi otto posti sono Ottavo posto Torino Settimo posto Lazio Sesto posto Atalanta Quinto posto Napoli E noi Come Predictato da me All'inizio video Siamo arrivati Quarti Vediamo un po' La squadra Mamma mia Tammy Herbham 83 La squadra è cresciuta tutta Hanno giocato Non tutti Perché tipo Qua sono un po' Scontenti Però Pazienza C'è Ha giocato Perez Madonna mia Questo qua Non può giocare Manco in serie D Comunque La squadra è questa Fatemi sapere Se secondo voi Di Bala farà bene Alla Roma Secondo me Sì Con Mourinho Allenatore Vediamo Le statistiche Il capo cannoniere È Di Bala Con 32 reti 8 assist Poi Tammy Herbham 19 8 Veritù 17 5 Oddio Legrini Il capitano 11 10 E poi tutti gli altri Zagnolo Un po' deluso Però Zagnolo In Toria Dovrebbe venire Alla Juve Anche se secondo me Anzi Stanno facendo Un'offerta Per il rinnovo Quindi Secondo me Rimarrà Però boh Lo scopriremo Lo scopriremo Comunque La Roma Con La Roma Del 2022 2023 Se vorreste Altre squadre Scrivetemela appunto Qui sotto Nei commenti Qui Dalla Roma Di José Mourinho E Il nuovo acquisto Paolo Di Vala È tutto Noi ci picchiamo In un prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti